ora si va da un'occhiata in piazza dove ci sono tutte le lucine stasera fanno la pira andiamo a vedere dove è sta pira ah eccola qua che l'hanno preparata la pira qui c'è tutta l'innominazione la dice il pub di fausto e qui hanno preparato la pira adesso si va a vederla eccola qui la pira di legno poi verremo a vedere quando la accendono bel mucchio di legna eccola qua vedremo poi quando è accesa com'è ora si ritorna verso il garage si un po di illuminazioni ci so c'è poca gente perché è presto non c'è folla un momento e ora si ritorna verso il garage non c'è non c'è